Nel tempo ordinario la liturgia ci propone ancora una volta un passaggio del Vangelo secondo San Luca tratto dal capitolo numero 12 e dei versetti che va adesso in onda il respiro dell'anima a cura di Vincenzo Piorgentino carissimi ascoltatrici e carissimi ascoltatori buongiorno e benvenuti ancora una volta in questo programma radio intitolato il respiro dell'anima oggi 26 ottobre 2023 giovedì della 29esima settimana del tempo ordinario la liturgia ci propone ancora una volta un passaggio del Vangelo secondo San Luca tratto dal capitolo numero 12 e dei versetti che partono dal numero 49 fino al numero 53 ascoltiamo dunque il Vangelo odierno per poi commentarlo insieme dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli non vi crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra sono venuto a gettare fuoco invece e quanto vorrei che fosse già acceso ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra no io vi dico ma divisione d'ora in poi se in una famiglia vi sono cinque persone saranno divisi tre contro due e due contro tre si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre madre contro figlia e figlia contro madre suocera suocera contro nuora e nuora contro suocera parola del signore lodi a te o cristo sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso oggi il Vangelo ci presenta Gesù come una persona di grandi desideri sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso Gesù vorrebbe già vedere il mondo bruciare ma bruciare di carità e di virtù non di malvagità deve affrontare ancora la prova di un battesimo cioè della croce che avrebbe già voluto superare Gesù naturalmente ha dei grandi progetti in mente e ha premura per vederli già realizzati potremmo dire che si tratta quasi di una premura dovuta ad una santa impazienza anche noi come esseri umani abbiamo idee e progetti e li vorremmo vedere realizzati subito ma il tempo purtroppo interferisce ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto tutto questo per noi comuni mortali si può tradurre nello stress della vita nell'inquietudine vissuta da tutti noi che abbiamo grandi progetti d'altra parte chi è privo di desideri è un pusillanime un morto un ostacolo inoltre è una persona triste amareggiata abituata a sfogarsi criticando coloro che lavorano ma tutti sappiamo che sono le persone che si muovono che generano movimento intorno a sé sono quelle che avanzano e che permettono agli altri di avanzare con loro e proprio quelle persone come loro motto di vita hanno scelto la frase chi si ferma e perduto abbi quindi grandi desideri fratello o sorella punta in alto cerca la perfezione personale famigliare professionale e apostolica delle tue opere dei tuoi incarichi che ti confidano i santi ai quali hanno aspirato al massimo loro non ebbero paura dinanzi allo sforzo e alla tensione anzi nonostante questi intralci si mossero lo stesso muoviamoci quindi anche noi ricordando le parole di sant'agostino che ci dice se dici basta sei perduto e proprio queste persone hanno scelto questa frase come loro motto di vita oltre a camminare e a sforzarci di andare avanti nonostante tutti gli ostacoli che la vita ci presenta ogni giorno dobbiamo aggiungere sempre di più al nostro operato quotidiano dobbiamo camminare sempre di più nonostante la strada che abbiamo percorso finora ci sembra già abbastanza e dobbiamo avanzare sempre di più per poter aggiungere la meta tanto attesa e tanto desiderata non dobbiamo fermarci per strada non dobbiamo retrocedere e non dobbiamo deviare perché come ci ha ricordato sant'agostino se ci fermiamo per strada se ci fermiamo per strada se retrocediamo o se deviamo la strada siamo perduti per sempre si ferma colui che non avanza retrocede colui che ripensa nel punto di partenza si svia colui che apostata è meglio quindi a questo punto che uno zoppo che va per il cammino che colui che corre fuori dal cammino e lo zoppo potrebbe rivolgersi nei confronti del suo fratello con queste testuali parole esaminati ma non accontentarti con quel che sei se vuoi arrivare a quello che non sei perché nello stesso istante in cui ti compiaccia ti sarai fermato allora dunque ti devi decidere ti muovi o stai fermo in tutto questo chiediamo come sempre aiuto al nostro signore e a Maria Santissima madre della speranza e del buon cammino e prendendo come spunto le riflessioni dei santi ricordiamo oggi San Giovanni Maria Viannè il santo curato d'asse che con le sue parole ci ricordava che la preghiera non è altro che l'unione con Dio e che chiunque ha un cuore puro riunito a Dio sperimenta in sé una morbidezza e una dolcezza che lo inebbia facendolo sentire come circondato da una luce ammirabile e ancora il santo padre Giovanni Paolo II ci ricorda che nel sì alla sequela si include il coraggio di lasciarsi bruciare dal fuoco della passione di Gesù Cristo e per concludere il battesimo di Gesù è da parte di lui l'accettazione e l'inaugurazione della sua missione di servo sofferente egli si lascia annoverare tra i poveri peccatori per amore nostro in quel momento già si trasforma nell'agnello di Dio che toglierà il peccato del mondo così facendo già anticipa il battesimo della sua morte cruenta e viene dunque ad adempiere ogni giustizia sottomettendosi totalmente alla volontà del padre suo che è nei cieli e accettando per amore il battesimo di morte per la remissione dei nostri peccati dunque carissimi fratelli e sorelle durante il difficile cammino nella nostra vita non ci perdiamo mai d'animo ma supplichiamo il Signore Dio Onnipotente affinché ci sostenga ci conforta e ci protegga e non permetta che le nostre anime cadano nell'avvilimento nella delusione nello sconforto nella disperazione senza possibilità di rialzarsi preghiamolo anche affinché ci conceda la grazia e la forza di sostenere le nostre umane debolezze di fronte al dolore e di donarci il suo conforto per rimanere accanto a lui affinché dopo aver trascorso questo difficile pellegrinaggio terreno possiamo un dì goderne i frutti nella patria celeste dove lui ci aspetta insieme con Maria Santissima madre della speranza e del buon cammino con tutti gli angeli e con tutti i santi nel regno dei cieli Amen carissimi ascoltatrici e carissimi ascoltatori se vi è piaciuta questa nuova puntata del respiro dell'anima vi invito a condividere questo programma radio con i vostri amici, familiari, parenti e conoscenti e se volete continuare ad approfondire gli insegnamenti che ci ha lasciati il nostro Signore Gesù Cristo attraverso la lettura commentata del Vangelo del giorno e il pensiero sulla vita dei santi rimanete connessi insieme con noi come sempre vi saluto vi auguro una buona giornata nel nome del Signore e della Vergine Santa e vi do appuntamento alla prossima puntata del respiro dell'anima Grazie a tutti Grazie a tutti